Buongiorno a tutti, brevissimo video solo per saluti perché tra l'altro poco vado al lavoro. Oggi ho ricevuto il programma del viaggio per le fiandre, eccolo qui, i tuoi viaggi, visitate il sito dei tuoi viaggi perché organizzano veramente delle bellissime gite, brave persone, bravi autisti, posso recensire molto bene questo tour operator, i tuoi viaggi. Praticamente partirò con una mia amica dal 30 maggio al 2 giugno e faremo praticamente sabato 30 maggio il pranzo libero lungo il percorso, poi ci fermeremo a Metz. E poi ci porteranno in hotel che è un nuovo hotel Mecklen Centrum, a Mecklen praticamente. Poi domenica 31 maggio faremo la visita guidata di Anversa con pranzo libero e poi ci porteranno a Bruxelles. E il primo giugno faremo la visita guidata di Bruxelles e poi dopo ancora lì a Bruxelles praticamente e a Gand. E poi martedì 2 giugno faremo sosta a Ricchevir o come cavolo si pronuncia. Comunque noi ci siamo sempre trovati bene con i tuoi viaggi, ecco non ho niente da dire, belle le guide, bravi tutti ecco. Pertanto io vi saluto e che dire, per favore se sapete di qualche programma da poter installare sia sul telefonino che per il computer in modo tale da poter mettere video e foto insieme, fare del tipo di fotoritocchi così che sia buono. Se me lo dite nei commenti per favore, grazie e buona giornata a tutti.